Oggi 21 ottobre del 2021, alle ore 9.45, proclamo eletta alla carica di sindaco del Comune di Battivaglia la dottoressa Cecilia Francese, salva le definitive decisioni del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 267 del 2000. La dottoressa Francesa, grazie per il cordiale. La dottoressa Francesa La dottoressa Francesa, grazie per il cordiale. La dottoressa Francesa, grazie per il cordiale. La dottoressa Francesa, grazie per il cordiale. Grazie a tutti.